Non posso credere che mamma abbia imbrogliato Ciao tesoro, mamma sta vincendo? Oh sì, vincerà il concorso, ma perderà la sua anima Però il concorso lo vince, vero? E perderà la sua anima Ma vincerà il concorso? Sì Mitico! Se Margie diventa a sia sforna e gusta Conosceremo tutti i personaggi del mondo alimentare Guarda! Mister Locciolina! Gli elfi dei Waffer! Quelli dei cereali! Monsieur Brioche, io ti amo! Ehi, vacci piano, straniero! Oh cavolo! Lo hai ucciso? Lui era il mio mondo! Chi la fa l'aspetti? Chi la fa l'aspetti? Chi la fa l'aspetti? Chi la fa l'aspetti?